No, 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 che deve tirare su la televisione Dice che è in televisione Scusa Papà Stiamo cercando sto ragazzo qua, l'hai visto? L'hai visto questo? Questo con l'ombrellone? Dai, dai Dai, lui Si è diventato famoso ormai? Ma tu non lo conoscevi di Battista? Uno dei deputati più famosi del Movimento 5 Stelle No, no, da una secola di voi Come ti sei accorto che poi questo video Stava girando su internet? Mi sono accorto dopo due giorni Che mi hanno detto che c'hai detto di Battista Voi è questo Battista? Di Battista? Di Battista Dice ma voi è di Battista? Ma come lo conosci? Ma come lo conosci? Ma come lo conosci? Ma come lo conosci? Ah, D'olio del Molino È giovanotto spostati Noi ho detto, ho vuoi 20 anni leude Ci ho detto, ragazzino spostati Mi chiamo Dani e il Molino Prendo i pesci Pesco Tutto pescato stanotte Noi andiamo alla sera a madre alle 10 alle 9 e io mi rovescio, no io, io mi rovescio, ti dico magari non lo faccio, io magari non ci fanno male, io sono come Cianca. Su Facebook dove hai visto? C'è, no l'ho visto su internet, l'hai visto? Tu sei pure io, quell'ignorante, se tu non ti puoi permettere di dire delle cose a certe persone che sono determinate, persone speciali. Vino lo pisci, non capiscono nient'altro. Sì, siamo sciamoliti. C'è una cosa, spostali, perché alla fine non è perché è politico, per noi siamo tutti uguali, perché ci stiamo incombrando. Ma tu lo conosci di Battista? No, no, politico non la seguo, non mi interessa. Sai che ci sono le elezioni in Sicilia? Non voglio neanche votare, io sono pescatore, alle 6 di pomeriggio vado a mare, l'indomani mattina rientriamo con la barca e poi andiamo qua a prendere il pesce. Il nostro attaccante è Dani Molino. Signora, c'è un po' la piscina, una parola, una parola, una parola. Ai tu, a lui lo vedo ogni giorno, già ce l'ho qua, sulla testa. Le orecchie mi devo mettere, per non sentirlo. Oh, no, il nostro attento è quando mi devo mettere il tuo tempo. Questo è il nostro attento? Oh, no, il nostro attento? Ok, sì, molto d'amore. I ho parlato, appanto? Allora no, l'altro abbiamo messo in questo modo. Vi saluto per la sua donazione. Allora!